Mr. Bettinelli, la vigilia dell'ultima partita di stagione regolare. Il Varese deve vincere ma dipende anche almeno dal risultato di un'altra partita. Questo dà un po' fastidio oppure fa parte del gioco? No, fa assolutamente parte del gioco. Noi dobbiamo fare la nostra partita, la faremo. Scenderemo in campo sicuramente per fare il risultato pieno, come scendere in campo per fare il risultato pieno il Siena che ha bisogno di questi tre punti e poi gli altri campi alla fine chiederemo cosa hanno fatto. E' arrivata purtroppo la notizia che Corti non potrà essere della partita e il ricorso è stato rigettato. Un commento? No, nessun commento particolare. La società ha voluto provare a fare questo ricorso. Comunque sapevano che sarei stato comunque tranquilli in ogni caso perché i giocatori di esposizione mi danno ampia tranquillità. Per cui mi dispiace per Daniele che non potrei essere per la partita, però per la partita non sono preoccupato.